Dovremmo ora passare all'ordine del giorno, però devo constatare che non è presente il rappresentante del Governo, mi dicono per un disguido. Presidente, io non metto in dubbio che ci potrà essere stato un disguido per quanto riguarda la presenza del Governo, però le deve anche convenire con me che è un fatto molto preoccupante e ha una sua gravità, oltre che riguardoso nei confronti del Parlamento. Io ho qualche elemento di valutazione in più da evidenziare e da rassegnare anche a quest'Aula. Credo che ci sia qualche disattenzione all'interno del Governo o soprattutto qualche confusione dei ruoli tra il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Difesa. Io ritengo che un provvedimento che è un disegno di conversione di un decreto legge, per quanto riguarda il riferenziamento delle nostre missioni all'estero, certamente dovrebbe avere da parte del Governo un interlocutore molto più stringente. Io mi ero illuso, signor Presidente, che questa potesse essere l'occasione per un confronto molto ampio sia sui problemi della difesa, sui suoi problemi di politica estera. Invece qui il Governo non esiste, non esiste nemmeno per rassicurare una presenza e per ascoltare quelle che sono ovviamente gli interventi da parte dei colleghi. Una delle tante volte o delle poche volte, faccia lei, signor Presidente, in cui il Governo dimostra, oltre a una chiara insensibilità, ma soprattutto dimostra una debolezza rispetto a temi così stringenti, e così forti e così avvertiti nell'opinione pubblica. L'ultima battuta, Presidente, lei ha dato una comunicazione dalla nomina di un sottosegretario. Ovviamente anch'io mi rallegro con il mio corregionale, tranquillamente, non ho nessun motivo per non farlo. Un rallegramento, una felicitazione e un augurio di buon lavoro che lo faccio con sincerità di sentimenti. Ma qui stiamo producendo sottosegretari, signor Presidente. Stiamo producendo sottosegretari a dismisura per mantenere un equilibrio all'interno del Governo, o meglio ancora, tanto per dirlo con molta chiarezza, perché il Governo si assicuri la propria sopravvivenza. È un fatto gravissimo. Se noi lo confrontiamo con le nomine di questi ultimi mesi e l'assenza del Governo su una materia così importante e così significativa, io ritengo che non può passare sotto silenzio. Allora io ho preso la parola, non per fare l'alimentazione o per fare ovviamente un intervento di routine, di liturgico, di occasione e di circostanze che mi viene in questi particolari momenti, ma vorrei sapere dalla Presidenza della Camera se c'è una posizione chiara che stigmatizza questa situazione e questa posizione del Governo. E non si può, me lo consenta il Presidente, ovviamente anche per la deferenza che ho nei suoi confronti, la stima, la grande considerazione che ho maturato nel corso degli anni, nei suoi confronti, quindi non si può nemmeno liquidare una vicenda, c'è stato un qui pro quo o una confusione. Ma di che cosa? Su che cosa? Ma c'è stata una confusione da parte del Governo, da parte della Presidenza della Camera, da parte degli uffici che io escludo che ci possa essere stata qualche confusione da parte degli uffici. E come noi ci comportiamo nei confronti del Governo? A quando rinviamo? Quando rinviamo, riduciamo ancora ulteriormente il dibattito e la discussione sulle missioni all'estero? Io ritengo che questo è un dato importante e fondamentale, io ritengo che una parola da parte sua o del Presidente Fini, io ritengo che debba esserci e non può essere semplicemente un rinvio per l'assenza del Governo. Ne capisce l'imbarazzo che abbiamo noi, ma soprattutto l'imbarazzo e la preoccupazione dovrebbe essere più dalla Presidenza che deve garantire il buon funzionamento dei lavori e soprattutto tutelare ovviamente il ruolo e l'impegno dei parlamentari. Grazie Presidente. Noi siamo in un'aula parlamentare e dobbiamo affrontare una discussione su un decreto per altro molto importante. Il disguido può riguardare le persone, signor Presidente, non può riguardare le istituzioni. Questo è un Governo che ha numerosissimi sottosegretari, ha numerosi ministri, che in tante occasioni mette sottosegretari e ministri non competenti per materia ad assistere ai lavori e quando ci sono delle proteste da parte dell'opposizione ci viene risposto che l'importante è che il Governo in quanto istituzione sia presente in Aula. Ecco, io credo che la scena che noi abbiamo di fronte, e cioè dei banchi del Governo completamente vuoti, cioè che il Governo non sia riuscito anche a causa, può esserci stato un contrattempo, come un disguido, come lei ha detto, da parte di un rappresentante del Governo, ma questo non può minimamente giustificare il fatto che il Governo in quanto istituzione sia assente in Aula con un suo rappresentante. Questo non è soltanto ovviamente un elemento di sciatteria, è anche uno sgarbo istituzionale che viene fatto innanzitutto alla Camera nel suo complesso e chi per essa la rappresenta in questo momento è ovviamente lei, a tutti noi e soprattutto a questo punto, signor Presidente, noi vorremmo capire quando è che questo disguido potrà risolversi, nel senso che quando è che uno dei tanti membri del Governo titolati ad essere presenti in Aula pensa di poter graziare con la sua presenza i nostri lavori e consentirci di lavorare, cosa che in questo momento non possiamo fare proprio per l'assenza del Governo. È un fatto grave, signor Presidente, che accade, ripeto, peraltro su un provvedimento particolarmente delicato e credo che, come ha detto giustamente l'onorevole Tassone, non possiamo limitarci ad aspettare che il Governo arrivi, ma credo che da parte della Presidenza della Camera debba levarsi una protesta formale nei confronti del Governo che ci mette in questa situazione. Grazie. Volevole Borghesi, prego. Presidente, noi abbiamo fatto una manovra economica sulla quale persino il Presidente della Repubblica ha chiesto una sorta di unione per approvarla in tre giorni senza avere qui il Ministro dell'Economia. Abbiamo fatto una comunitaria la settimana scorsa senza avere il Ministro per le politiche comunitarie. Parliamo di missioni internazionali sulle quali si stanno consumando delle questioni delicatissime. Mi riferisco alla Libia in particolare, ma mi riferisco anche all'Afghanistan. Abbiamo un Governo che ha sede a Roma, non a Monza, con tutti i Ministeri che hanno sede a Roma, con tutti i sottosegretari che hanno un ufficio a Roma e non altrove e qui non si trova un sottosegretario disponibile ad assistere a questi lavori. Io credo che questo, ben più di ogni altra cosa, sia il sintomo di un Governo che non c'è più e è ora che ne prenda atto. Governo inesistente se ne vada e si vada ad elezioni, perché è ora che un Paese come il nostro abbia un Governo che governa realmente, non un Presidente del Consiglio che non viene mai in aula a parlare, se non in rarissime occasioni, non a un Ministro della Difesa che viene in aula per fare gazzarra, come è stato l'ultima volta che è venuto, invece di occuparsi dei problemi seri. Abbiamo letto ieri che il sottosegretario Crosetto partiva per l'Afghanistan dopo aver litigato col Ministro Tremonti, ma forse invece di andare in Afghanistan poteva venire qui a seguire una vicenda che credo sia assolutamente rilevante, per cui ribadisco, Governo inesistente, Governo che non governa, Governo se ne vada a casa. Presidente, per unirmi ai colleghi di opposizione nello stigmatizzare l'assenza del Governo che credo possiamo ampiamente onorare con il nostro lavoro e quindi proseguire così come è stato detto. Voglio soltanto dire che una cosa è constatare l'assenza del Governo, altra cosa è criticare nominalmente un sottosegretario che fa il suo dovere e rischia anche personalmente recandosi in Afghanistan, come l'onorevole Crosetto, a cui va il mio compiacimento per essere vicino ai nostri unitari in un momento così difficile. Grazie. Io non entro nel merito delle questioni sollevate dal punto di vista politico, però posso e debbo, direi, entrare nel merito delle questioni procedurali e sul fatto grave che è accaduto per la mancanza del Governo che stigmatizzo nella maniera molto, ma molto più forte possibile. Rappresenterò anche al Presidente della Camera quello che è accaduto per eventuali determinazioni in merito e adesso ci attiviamo anche per comprendere, come qualcuno diceva, quando ci si degnerà di venire in quest'Aula per questo provvedimento. Grazie e comunque per gli interventi dell'Unione Tempessini su un altro argomento. Prego. Sì, signor Presidente, molto brevemente, in questo clima un po' surreale, io debbo farlo però perché la situazione si sta avvitando in modo oltremodo drammatico e cioè parlo della crisi siriana che, come abbiamo avuto modo di leggere e di sentire, si sta trasformando in una vera, questo confronto si sta trasformando in una vera e proprio mattanza. Io penso che sia necessario che il Governo venga a riferire al più presto in Aula. Ripeto, se non ci fosse questo clima un po' surreale, questa mia richiesta avrebbe un senso molto preciso. Temo che ne abbia una ancora più corposa e più drammatica, proprio perché la rivolgo ad un'Aula in cui il Governo non c'è, ma devo farlo e lo faccio con molta insistenza. Il Governo venga a riferire su ciò che sa e soprattutto su ciò che intende fare in merito alla questione siriana. Sì, Presidente, anche noi chiediamo al Governo di venire a riferire sulla situazione siriana. Però il Governo chi? Lo dico anche al collega Tempestini. Chi? Il sottosegretario? Io ritengo che sulla situazione siriana deve intervenire personalmente o il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro degli Affari Esteri. Perché vogliamo capire il perché l'Italia ha avuto nei confronti della Siria un atteggiamento diversificato e diverso rispetto ad esempio l'Iraq. Perché c'è stato fino ad oggi, da parte di una realtà anche europea, una certa copertura, una certa tolleranza della Siria e delle cose che stanno succedendo? Perché non si è assunto una posizione netta, precisa, forte rispetto al massacro che la Siria sta perpetuando nei confronti ovviamente della comunità, dei cittadini? Io ritengo che ci debba essere una presenza, ecco così, sono d'accordo con Tempestini, ma voglio andare qui in là. Bisogna che ci sia il Ministro degli Affari Esteri, che ci dichiara qual è la politica estera di questo Governo, per la Faganistra, per la Libia, per la Siria, per Nord Africa, lo vogliamo capire, che ci viene la comunicazione del sottosegretario, ovviamente, e poi il giro di cinque minuti dei rappresentanti del gruppo non serve nulla. Allora, signor Presidente, io ritengo che ci debba essere anche qualche momento di riflessione forte sulla politica estera da parte di questo Governo. E voglio aggiungere, questo e finisco, Presidente, la cosa di prima, e lo dico anche al Presidente della Commissione di Difesa, è l'assenza del Governo, è una cosa sconvolgente, perché questo è un disegno di legge di conversione di un decreto legge. Siccome il rifinanziamento delle missioni sanno che nessuno è contrario al rifinanziamento delle missioni, perché ci sono i nostri ragazzi che muoiono. Se ci fosse stato un provvedimento, un decreto legge che serviva e interessava direttamente al Governo e c'era una dialettica all'interno del Parlamento, sarebbero stati tutti presenti, non soltanto il rappresentante di un Ministero. Questo ha il sapore del ricatto, ma soprattutto di una conduzione pressoché responsabile da parte di questo Governo. È molto più grave di quanto si possa pensare all'assenza del Governo, signor Presidente, perché l'assenza del Governo significa assenza di una politica e della politica estera, e questo è molto grave e soprattutto molto preoccupante.